bravo! come hai fatto? e niente ho tirato una freccia a caso ma prima c'ho tutto un alleato e adesso tirerò una freccia a caso, headshot! e si faccio un poco di soppressione con l'arco, come nel nuovo Robin Hood tu cosa fai? mi senti bene? dove t'ho preso, danny? solo per sapere! come il c***o? non state in mezzo alle porte di sto poveri caro!